Adesso arrivo a un argomento, nel frattempo ringrazio l'avvocato Rinaldi se mi può accomodare là perché i posti oggi mi servono e poi le richiamo. Arriviamo a un altro argomento cui prego gli onorevoli di fare molta attenzione e anche voi ovviamente e anche i consiglieri regionali perché su questo punto mi ci prudono le mani e mi viene un prurito da un'altra parte pensando alla popolare di Vicenza. Quindi fate bene attenzione per favore, l'argomento sembra difficile ma ve lo spiego in maniera molto semplice. Volevo qua l'ingegner Scarano, analista finanziario indipendente, consulente di Report del Fatto Quotidiano e di... basta! Non consulente del Fatto Quotidiano ma ho scritto diversi articoli per il Fatto Quotidiano e non consulente di Report ma aiuto gli amici di Report molto volentieri quando hanno bisogno. Si accomodi la parola poi dal microfono. La questione è... Veneto Banca è in LCA e popolare di Vicenza in LCA. Vai avanti Mario. Allora, noi abbiamo fatto... abbiamo guardato il sito delle due LCA. Questa volta abbiamo osservato di più quello di Veneto Banca perché se no siamo sempre puntati su popolare di Vicenza e poi il naso pondeva più qua. Quindi vi dico, la fortuna o la sfiga loro ci ha portato qua. I commissari liquidatori informano che in via di conclusione l'analisi di oltre 13.000 domande di insinuazione al passivo. Come sapete le due banche sono state sciolte. Una parte è andata d'intesa per 50 centesimi a banca, quindi un euro, e il restante è rimasto all'interno delle due liquidazioni quarte amministrative. Bene, all'interno delle due liquidazioni quarte amministrative ci sono all'interno di quella solo Veneto Banca, 13.000 soggetti risparmiatori che si sono insinuati, hanno fatto domanda di insinuazione al passivo. Bene. Andiamo avanti. Questo è un altro comunicato sempre riguardo alla chiusura dello stato passivo dove la banca dice, si fa seguito quando comunicano il 22 ottobre 2021, quella che vi ho detto prima, per segnalare che le operazioni di redazione dello stato passivo del Veneto Banco a spai liquidazione quarte amministrativa si concluderanno in data il 17 gennaio. Fate attenzione alle date. 17 gennaio, firmato Roma, 4 gennaio. Quindi il 4 gennaio, loro dicono, finiremo il 17 gennaio. Cos'è in quanto? Due settimane? Due settimane. All'interno della documentazione che poi abbiamo trovato sempre di Veneto Banca, prego. Ce l'hai il link? Scusate perché oggi abbiamo caricato un sacco di file. Tirami fuori il link. Mario ti è stato domandato impossibile oggi. Ce la fai? C'è, se non la leggo io, eh. Ok, c'è la quarta informativa sullo stato della procedura di liquidazione quarta amministrativa. aggiornata ai saldi contabili 31-12-2020. Ve lo leggo perché facciamo fatica a caricare i fagli, abbiamo messi un po' dappertutto. Vi chiedo scusa un'altra volta, però affidatevi la documentazione qua, poi se riusciamo la recuperiamo. Ripeto, dati aggiornati ai saldi contabili 31-12-2020. E questa relazione è stata pubblicata 28 marzo 2022. due anni per fare una relazione del 2020. Due anni. Questi più che liquidatori, ma pare amministratori che va via con calma. Ma aspetti, aspetti, che arriviamo a un punto. Andiamo avanti ancora. Vai avanti Mario. Facciamo tutta la cronostoria che così capiscono tutti. Sai la lettera? Perfetto. Qui abbiamo scritto noi a Veneto Banca, attenzione qua, il 16-1-2023, guardate la data, poiché nella relazione informativa 2020, Veneto Banca e l'LCA, ultima disponibile sul sito, relativa alla situazione 31-12-2020, ma con data 28-3-2025, si legge, alla data della presente relazione si informa che tutte le 13.000 istanze pervenute dopo il censimento, la classificazione e la catalogazione informatica dell'incentissima documentazione prodotta, sono state realizzate ed in fase conclusiva l'attività di individuazione, secondo le norme in vigore delle domande di non ammettere di quelle da ammettere lo stato passivo della procedura. Ci chiediamo come mai vi siano relazioni così datate e poco aggiornate, ma soprattutto perché a distanza di quasi un anno il deposito dello stato passivo non sia ancora avvenuto e quali siano i tempi in cui il deposito è previsto, cioè nei quali diciamo, siccome avete scritto il 4 gennaio che sarebbe chiuso il 17 gennaio lo stato passivo del 2022, siccome noi siamo al 16.01.2023, mi sembra che qualche giorno in più sia passato, come mai non avete ancora depositato, cioè sono dei commissari, sono dei commissari liquidatori, sono dei funzionali pubblici, non sono Pino, Pasquale, Pluto e Papelino. Quindi io ritengo che, per carità, magari non hanno rispettato pienamente la data, non possono rispettare pienamente la data dei 15 giorni che loro si sono dati, però a distanza di un anno io ritengo che almeno una risposta a un'associazione che rappresenta la metà di quelle 13.000 istanze sia giusto darla. Andiamo avanti. Poi c'è la quinta informativa, se riesci a tirarla fuori? Se no ve la racconto io un'altra volta, non è un problema. La quinta informativa di Veneto Banca, eccola qua, è aggiornata ai saldi 2021 ed è stata pubblicata, quindi hanno pubblicato una nuova informativa l'8 febbraio di quest'anno, subito dopo che noi abbiamo mandato via la lettera del 16 dell'1. Quindi noi abbiamo mandato via la lettera del 16 dell'1. Avevamo una quarta informativa lì ferma che si hanno messo due anni a produrre e improvvisamente, subito dopo, la nostra lettera del 16 dell'1 l'ho mandato fuori. La quinta informativa. Questo mi lascia pensare che se qualcuno andasse a bussare alla porta di questi signori magari produrrebbero molto più materiale rispetto a quello che hanno prodotto fino ad oggi. Perché poi noi siamo andati all'interno delle LCA a vedere cosa c'è. E almeno quello Mario riesce a tirarmelo fuori, vero? Ti chiedo l'impossibile? Allora, sì mi dici anche. E allora ve lo leggo io. All'interno di Veneto Banca e MLCA, così come dentro la liquidazione popolare di Vicenza. Cos'è che c'è? C'è la ricchezza che è rimasta residua degli attivi da smobilitare. Cosa vuol dire? Partecipazione nazionaria. Ad esempio, qua ho una relazione che siamo andati a spruzzare e che abbiamo costruito. Vedi, di notte c'è gente che si dà da fare e non dorme, no? Ad esempio, banca intermobiliare di investimento e gestionale. Cessione a testo capita LLP di una partecipazione. Ok? Per un corrispettivo di 24 milioni di euro. Quindi non si parla di bruscolini. Qua si stanno cedendo attivi delle banche che valgono milioni, decine di milioni di euro. Clarisse Leasing è la sottoscrizione di contratti criminali con Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord-Est per l'accessione di Clarisse Leasing. Quindi qua, nel sito, loro mettono il nome della partecipazione che hanno e dove la stanno cedendo. Ok? Eccolo qua. Bravissimo Mario, bravissimo. Quindi l'impossibile si può. Vai a avanti e scorri. Vi ho letto quelle di cui siamo riusciti a ricevere e capire che fine avevamo fatto le cessioni. Si parla di cessioni di milioni di euro. Ripeto, di milioni di euro. Andiamo avanti. Vai avanti, scorri il foglio. Questa è la banca intermobiliare di l'anzaretta. Questa è Clarisse che vi ho appena letto. E' quello lì. Attenzione, vai 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 vai. Vai. Vedete qua c'è nel lato sinistro pallacchio holding. Nel lato destro, sulla base di indiscrezioni di stampa, l'interno lato di partecipazione sarebbe stato acquistato da Sparta Holding. Questo è quello che siamo riusciti a risalire. Vai avanti Mario. Qua ci sono delle partecipazioni. Io vorrei che l'onorevole gli facessero attenzione a questo. Vai sotto, vai sotto, vai sotto, vai sotto, vai sotto, ancora, ancora. Pagina 4 che è la migliore di tutte. E' quella qua, fermo qua. Ver Capital SGR. Vendita di 240.000 azioni. Vendita nessuna informativa reperita. Non c'è nulla che abbiamo cercato dia il senso di quello che è successo con questa vendita. Vai in quella sotto. Un altro. Alto Capital 3 immobiliare. Sottoscritto pari... Aspetta, 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 aspetta. Avviso di vendita di 60 a quote per un importo sottoscritto pari a 3 milioni di euro. Quindi ripeto, no Bruscolini. Nessuna informazione reperita. Adesso io vi domando se in questa regione, in questo posto, in questo Stato, questi signori possono permettersi di fare cessioni senza spiegare a chi e come. Sono dei commissari, sono dei pubblici ufficiali. Dov'è la trasparenza? Prego, geniore. Ma guardando tutta questa documentazione che è ponderosa, ma è apparentemente ponderosa, in realtà manca di elementi essenziali, perché qui abbiamo delle cifre di vendita, ma spesso non viene specificato il quantum e neppure a chi. Ed effettivamente questo patrimonio delle due banche venete, che è un patrimonio, come dire, di tutti, di tutti voi, non viene rappresentato con trasparenza a tutti voi. Se voi andate nel sito, trovate un elenco di documenti, ogni qualche mese e riesce fuori un comunicato, ma è un comunicato lacunoso, insomma, insufficiente a farsi un'idea di dove va tutta questa ricchezza, che è una ricchezza di tutti voi. Cioè, io penso che questi commissari sono, parafrasando Shakespeare, persone onorevoli, immancabilmente onorevoli, certamente onorevoli, stanno facendo un pregevolissimo lavoro, ci mancherebbe. E non siamo qui a confutare il grande lavoro che i commissari stanno facendo. E però non appare tutto questo lavoro, non appare in trasparenza, non appare a tutti voi. E quindi ci dovrebbe essere un impegno di tutti voi. Certamente questa associazione è l'unica che ha avuto la capacità di scrivere, di colloquiare, ma i commissari neanche rispondono. Ecco, certamente noi abbiamo, come dire, anche una vulgata molto popolare dell'opacità delle sezioni fallimentari, dei giudici, dei liquidatori, di questo mondo anche molto inquinato. Ma noi siamo sicuri che questi commissari sono tutti onorevoli, certamente onorevoli, però devono essere sollecitati a dare tutti gli elementi per capire dove va e come è gestita questa ricchezza che, insenuandosi al passivo, se rimane qualcosa, è anche vostro. Bene, io su questo punto, ripeto e ribadisco, vorrei che ci fosse più partecipazione da parte di tutti. E quando parlo di tutti parlo anche di quelle e altre associazioni che si occupano di risparmiatori. Perché noi queste cose le solleviamo, ma non possiamo essere sempre gli unici a sbatterci in questa maniera. Quando poi c'è gente che va in televisione a dire se onore ha detto qualcosa di dritto, di storto, di dovescio. Voi di quello che dice onore fregatevele perché è indipendente da questi fatti. Andate a scavare, fatevi un'associazione costruita bene vostra. Incominciate a lavorare con sudore e fatica. Perché a noi questi dati sono costati sudore e fatica di meraviglio anche dei giornalisti che vanno a scrivere le boiate che avete visto prima sui 300 mila euro e non trova un giornalista di inchiesta in questa regione che prende in mano le carte e che inizia a fare il lavoro che avevano fatto loro. Ma perché? Allora tutti a scrivere del vestito della Ferragni. Bellissimo il vestito della Ferragni. O delle stronzate che spalla Fedez. Bellissime le stronzate che spalla Fedez. Ma non fanno più. Questa roba fa più. Questo fa mangiare la gente. E forse fa mangiare qualcuno con i nostri risparmi. E io questo non lo vorrei perché l'unica cosa che deve essere un commissario, un pubblico commissario, è essere trasparente. E se non c'è trasparenza non c'è nulla. Se qualcuno vuole intervenire, prego potete intervenire, ripeto, anche contro quello che ho detto. Non c'è nessun problema. Qualche onorevole che se la sente? Con calma, non è obbligatorio. Io so che siete tutta gente seria e che prendete appunti. Li conosco tutti. Chi è? Dove? Tra il pubblico. È come che li vediamo con il microfono tra il pubblico, ragazzi. Un attimo e pazienza. No, volevo intervenire da quelli di Roma perché con tutto rispetto possono fare un passo in più rispetto a noi. Volevo guardare a parte a qualcuno ma ripeto, senza impegno perché, ripeto, è tutta gente seria, sono venuti qua, li conosco e ci hanno dato una mano in molte occasioni. Poi li prenderemo uno a uno, ve li faccio vedere, ve li presento anche in maniera un po' più compiuta. Chiedendo sempre scusa per i tempi che sono contingentati. Comunque, questo punto, questa situazione, io ci tengo e ci terrei che i commissari fossero più trasparenti per noi e per il territorio. Perché dopo vi faccio vedere cosa c'è all'interno delle banche. Perché non è finito qua lo studio che abbiamo fatto. E vorrei dire anche ai commissari che non ci trattino come fossimo plebaglia. Ci hanno dato un appuntamento e su questo li rispettiamo. Ci hanno dato l'appuntamento iniziale, sia Popolare di Vicenza che Veneto Banca, sul quale appuntamento ci hanno spiegato alcune dinamiche e per questo li ringraziamo. Bene. Ma noi siamo gli insinuati al passivo. Noi siamo quelli che lì dentro hanno dei diritti, oltre a essere quelli che lì dentro ci hanno messo i soldi per comprare quello. Oltre al fatto che una società che oggi detiene del capitale in liquidazione e che può influire nel vero e male l'interno di CDA, che sono del territorio e non sanno dove vanno a finire le loro azioni, beh a me questo preoccupa. A me questo preoccupa. Qua ci sono degli equilibri che possono essere economici, politici o anche di più. Quindi io su questo, ripeto, pretendo trasparenza da parte dei commissari. Magari non con me, magari non con l'Avvocato Filippini, magari non con l'ingegnere Scarano, pubblicamente che pubblichino quello che devono pubblicare. Ok? Perché io so di stare antipatico. E quindi non pretendo che mi rispondano. Però pretendo i dati. Perché rappresentiamo 3.500 risparmiatori. E' una ricchezza del Veneto che è importante. E che danno a mangiare anche a loro. Ripeto, fanno i commissari liquidatori e non i gestori, eh. Lo ripeto. Fanno i commissari liquidatori. Andiamo avanti Mario. E questa è la lettera, scusate, che abbiamo scritto ai commissari per dirgli esattamente quello che vi ho appena detto. Andiamo avanti.